Di Tizio, proprio nelle ultime ore ci sono state delle importanti novità sul processo Bus, il PM ha chiesto la derubricazione del reato da doloso a colposo e poi ci sono state le richieste di risarcimento civile. Sì, questa richiesta significa che se dovesse essere accolta dal collo giudicante comporterebbe l'intervento della prescrizione, quindi non ci sarebbe una condanna penale se fosse accolta, bisognerà vedere se questo accadrà o meno. In ogni caso nulla toglie sui risarcimento, i risarcimento sono stati chiesti e sono piuttosto pesanti, anche le associazioni delle parti civili, comprese le istituzioni benedistiche, li hanno chiesti, vedremo cosa si deciderà il 22 quando è prevista la sentenza. Che ci siano meno colpevoli non lo so, la realtà dei fatti resta che abbiamo subito per alcuni anni, per molti anni probabilmente, la presenza di una serie di discariche abusive che hanno comportato dei problemi grossissimi all'acqua e anche all'acqua potabile e abbiamo avuto erogata nei rubinetti dell'acqua contaminata. Questi sono dati di fatto, tutto il resto è tutto da scrivere.